Gli esperti lo avevano annunciato da giorni e così è stato. L'autunno nelle ultime ore ha preso il sopravvento anche nell'area sud di Salerno. Dunque sembra davvero arrivato il momento di dire addio al clima mite e ai bagni settembrini. Così come pare ormai obbligatorio effettuare il cambio di stagione e riporre negli armadi le tenute estive. Il brusco calo delle temperature registrato nelle ultime 12 ore lo impone come pure la pioggia battente caduta a tratti violenti nella notte appena passata. Un cambiamento repentino che ha colto quasi di sorpresa facendo registrare danni un po' dappertutto seppur di lieve entità. Diverse barche ormeggiate nei portici lentani per guarsi al sistema di svuotamento hanno rischiato di affondare ma il pronto intervento degli addetti ha evitato più serie conseguenze. Il maltempo che sembra destinato ad insistere sull'estremo lembo della provincia di Salerno almeno fino a domani si è lasciato dietro alberi sradicati strade ricoperte da rami e drittriti con lievi allagamenti soprattutto nelle località costiere cilentane e per questo sono state diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Una piccola tromba d'aria che si è abbattuta su Policastro poco prima delle 10 ha fatto temere ben più gravi conseguenze ma per fortuna nessun danno a persone è stato registrato. Non è andata così per il container ubicato sul porto che ospita il punto informativo della proloco. La furia del vento lo ha dapprima sradicato dal suolo poi lo ha letteralmente squarciato in più parti. Alcuni pannelli sono stati scaraventati a diversi metri di distanza altri sono finiti in mare. Solo per miracolo le persone che in quel momento si trovavano sul posto non sono rimaste travolte. Grazie. 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 Grazie.